Musica Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video di Fortnite Arriva finalmente un nuovo video e con un nuovo video una nuova challenge Raga oggi andremo a fare la solo caccia challenge nelle coppie Siamo con Livir che è stato tipo il top donator di tantissime live E finalmente si è deciso per l'appunto di fare un video con me E anche il top donator del canale ma vabbè E la challenge è molto semplice o almeno a dirsi è molto semplice Bisogna semplicemente usare solamente i caccia fino alla fine della partita Guardiamo un po' se riusciamo a vincere un game Io vi ricordo ragazzotti Codice datore con soggetti Davide dominato se volete utilizzare Vi ringrazio di cuore se lo fate Livir puoi smutarti? Va Puoi smutarti Livir vai parla saluta fai cose Bella Ok Let's go ragazzi ci troviamo in game Subito Ok ragazzi siamo in game abbiamo deciso di andare a Foschi Sperando che ci siano poche persone ovviamente Proviamo a trovare subito dei caccia e Guardiamo se riusciamo ad arrivare almeno in top 10 C'è un team Ecco perfetto Yeah siamo morti Dove? Lì? Sì Ok cambio di programma ragazzi andiamo al melo Bello questa R verde che non posso prendere Nove cilini Onesto Gli lanciamo gli cilini in faccia Caccia ho trovato un caccia frate ho trovato un caccia Onesto Ma eh Le granate si possono utilizzare? Eh no Anche senza granate raga Quindi non è come le altre ma O caccia o caccia raga nient'altro Oh attenzione caccia blu Ho due caccia Un caccia verde e un caccia blu frate Hai qualcosa? Io ti ho due verdi Ok raga Come se io fossi forte Con il caccia ma va bene così Vai libero Let's go Ho cinque colpi No me l'ha fottuto malissimo Rip dad Ho capito dov'è fra Eccoli No Un altro tempo No Non li lanciare Il cavolo addosso No Liber ce la facciamo Liber ce la facciamo Liber ce la facciamo Liber ce la facciamo No Liber guardami Ciao libero Io ho un bot di cure Quindi posso rimanere Tranquilamente dentro Occhio ci sta vedendo Ma che cazzo fa Ho trovato un caccia leggendario GG Mamma mia Che culo E niente ci muole No 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 ok raga io sono morto e l'ivir intanto si è fatto tipo mezza mappa a piedi da da fattoria piena qui ricevo a salvarsi una fattura però trovo il caccio agendario quindi gg l'ivir se la vinci faccio un regalo tipo tipo qualcosa nello shop guardiamo ho già tutto tanto raga vi ricordo codice creatore nel negozio oggetti davide dominati mi raccomando lo vedete qua sotto anzi no scherzo lo vedete nel mezzo esatto proprio qua non è vero non mi sta guardando allora dovresti trovare colpi cerchino magari un altro caccia e magari anche delle bende questo valore quello che devi trovare adesso poi puoi villarti anche l'ultimo gli ultimi due oh my god dude what the heck 2360 scappa 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 che è questo qua e sono me con un po di roba ci potresti trovare magari un altro caccia legend o altrimenti anche tipo degli degli shield vai trovo rarri per di privi ok vai 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 ma ma che cazzo ok morto hanno ucciso occhio 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 è che c'è si vede sia destra e sinistra riprendere le bende c'era dentro c'è spuglio che non non fanno comodo abbastanza che fiero lascia la vanna pesca e prenderti le banane e non ha visto cazzo cazzo ehi ehi è fermo è fermo è fermo bravo nasconditi per non pushare inutile grande libero partita del secolo rega attenzione oh è dietro c'è spuglio no no c'è gente dietro c'è spuglio dicevo tu sei stupido ho capito c'era gente dietro grande vai entra dentro il container giallo davanti a te fra qui non c'è il sito ma c'è gente qua lì shish shish eh ma se c'è gente cazzo vai così così stai fermo sono morto fratelli ho preso il muro fratelli ho preso il muro fratelli ho preso il muro fratelli no non sei morto fratelli se ti impegni non sei morto fratelli devi lasciar fatare dietro 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 devi lasciar fatare gli ultimi con quelli dentro dell'ericottero e te devi fuggire io no ho preso la scolla mia era un altro quello mio dio raga mio dio raga 2v2v1 mi sa eh ma dò quanto roba aveva 300 colpi pompa fraccia la puoi fare 300 colpi cecchino minchia pompa raga guardalo guardalo che lezzo man fermo 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 non riesce a far cadere te provaci prendi tutti i muri oh ci sono questi muri qua e poi può far cadere tutto mi sa eh ah no manca quelli lì manca quelli la sotto ok questo qui oddio oddio no è morto il rampino lo può prendere fra il rampino lo può prendere eh non fa danno è movimento può prendere il rampino fra è qua sotto attenzione attenzione prendi il cazzo di rampi non so dov'è è dietro dietro questo muro di pietra qui occhio fra togli un botto quello oddio no come ho fatto a non prenderlo quello lì è era ghost hit quasi salgo me lo gioco di banane eh mi facevi prima prendere le bende a questo punto puoi ancora prenderle tanno più vita ma ci muoio no no devi prendere le banane devi prendere le bende oppure lo pusci decidi attenzione madonna togli fatti 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 tutte le fattile tutte le fattile tutte fra sei morto oddio nooo ragazzi gg per livir eeeh niente ragazzi almeno lui ci ha provato a me mi ha tipo scopato uno subito dall'inizio ma va bene così eeeh vi ricordo se vi va un bel like noi vediamo la descrizione arriviamo almeno a 70 like ragazzi mi raccomando vi ricordo ancora per l'esima volta il codice creatore del negozio oggetti davide dominati eeeh noi ci becchiamo al prossimo video mi raccomando statemi bene bella raga bella bella Mettete pronto Adesso non è clippato mi cazzo male. Ho clippato io, ho clippato io Al massimo mi lo mando io